Al ministro della difesa Guerrini, al ministro degli interni Lamorgese abbiamo scritto una lettera dicendo che bisogna fare una nuova caserma di carabinieri a Montecchio di Vallefoglia che ha un rapporto con tutti i comuni confinanti, Montalabate, Tavuglia, Petriano, Monte Carlo, tutti questi Borgo Santa Maria che è proprio qui a fianco a questo territorio, quindi ci vuole un rafforzamento, un potenziamento anche perché sono uomini e donne nell'arma che hanno necessità di altri spazi. Abbiamo inviato anche un progetto per la verità, un progetto di una nuova caserma dei carabinieri, perché i carabinieri a Montecchio? Perché i carabinieri l'arma è la punta di diamante delle nostre forze armate anche nelle missioni internazionali, la gente ha molta fiducia e quindi per noi è importante avere un controllo, una prevenzione rispetto ad infiltrazioni malavitose di un'area molto ricca, molto produttiva. Qui alle mie spalle c'è un'azienda leader, una delle aziende leader nel mondo che è Vitri, Riva e Cold, che ha mille dipendenti. Bene, tutte queste aziende che vanno a gonfie vele per fortuna e che espandono le loro attività vorremmo che non finissero nelle mani della malavita organizzata. Quindi è meglio prevenire che curare i mali e avere una presenza di una compagnia di carabinieri, di una nuova caserma dei carabinieri in un territorio strategico. Ci sono persone che vengono dalle zone del sud Italia, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, ma anche da tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa. Quindi vorremmo che non ci fossero persone che non rispettano le regole, non c'è posto nemmeno per i bulletti che creano problemi alla nostra attività alla sera e anche a tarda notte, tanto meno per chi spaccia droga, fa attività malavitosa e criminale. La caserma dei carabinieri è una garanzia per tutte queste ragioni che ho detto e che abbiamo messo per iscritto e combatteremo per avere questo risultato.